Ciao riders e bentornati sul canale di Bikes4Eddy, io sono Eddie. Nel video di oggi vi voglio portare all'interno di una giornata di test con il mio team, Dart Race Squadra Corse. Vi faccio vedere come facciamo a sistemare la moto, anche perché per me è la prima volta, come vengono seguiti i miei compagni e poi ci sarà un ospite, un amico youtuber che mi ha fatto molto piacere incontrare e il mio obiettivo della giornata è quello di riuscire a girare ad almeno cinque secondi da lui. Vi faccio sapere nel corso del video se va tutto bene. Qui siamo all'interno dell'officina di Christian che è dove l'assistenza tecnica di Dart Race segue le moto di noi piloti. Noi siamo all'interno del box, adesso vi ci porto immediatamente. Come sempre vi chiedo di aiutarmi in tre modi differenti, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per non perdervi nessuno dei video che pubblico ogni settimana e se questo video vi piace, vi è fatto passare un po' di tempo piacevole in mia compagnia, per favore lasciategli un bel like. Ora è tempo di entrare in pista per il primo turno per vedere se le modifiche fatte dopo il problema tecnico avuto a Misano funzionano e la moto è in ordine. Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Stiamo provando a sistemare un attimo, vediamo se riusciamo. Per il prossimo turno però dovremmo essere ok. Allora vi ho promesso un po' di ospiti all'interno di questo vlog, il primo è Alex, che deve fare un annuncio importantissimo. Sì, perché tanto questa puntata qua è embargata, quindi per un po' non esce. Ok, lo facciamo così. Non dire la data ma di che cosa farai. Ok, faremo una serata speciale con una presentazione della rampega nella libreria definitiva. E' finita? In realtà stanno verniciando, però è finita. No, tranquillo. Perché sei sexy. Mi fa piacere. Quindi ci sarà un'anteprima assoluta, non la farò vedere in nessun modo da nessuna parte prima di quella serata in un locale che poi tutti i dettagli usciranno. Ok. Sia su Instagram che sul canale, ovunque, ovunque. Ovviamente se invitato ci devi essere. Per forza, io non mancherò. Per forza, ci devi essere. E vi consiglio, se ancora non l'avete fatto, ma lo farete sicuramente, di andare a seguire anche su Instagram Alex, così avrete tutti i dettagli. Sarà una serata pubblica? Assolutamente sì. Allora, non ci sono tantissimi posti, quindi sto valutando se fare un tipo una pre-iscrizione, ma giusto per prenotare i posti. Ok. Diciamo che sarà in un'area riservata di questo locale. 150 persone dovrebbero starci, però vediamo, perché ci sarà anche la moto in mezzo, sarà una roba fatta molto bene, molto carina. Ok, quindi bisogna seguire il canale Instagram di Alex in provincia di Milano e trovarci ad un certo punto, in un certo posto, Alex ci sarà in dettagli. Sì, guarda, a fine settimana prossima, quindi sapremo tutto. Va bene, questo video sarà costumo, quindi andate a vedere sul canale e trovate tutto. Esatto. Senti, oggi perché sei qua? Oggi per seguire i ragazzi che abbiamo, che seguiamo quest'anno con Prof. Italia Amatori, Sicopa Italia, due R6, nella 600, tutti e due. Primo testo è con la moto nuova, perché è arrivata a fronta praticamente stamattina, tutto bene. Come sta andando? Bene? Sì, ne ho fatto un turno giusto per capire se era tutto a posto, però bene. Adesso tra cinque minuti entriamo con i secondi turni e i piloti sono contenti, tranquilli, delassaggi, quindi fa pezzo. Eh, lo so, mi sembra di stare sulle uova. Va un freddo becco, beh, io non giro oggi, quindi sono tranquillo. Io comincerò a fine, al primo di maggio, vado a fare una salita di allenamento. Ok, però poi ricordati che una volta all'interno della stagione devi venirmi a trovare, ce lo sei un giudetto. Assolutamente sì, sì, assolutamente. Io sarò lentissimo, però... Io anche? No, io di più. Però non ti preoccupare. Io sarò lentissimo, però molto volentieri vengo, sì, sì, assolutamente, anche perché so già come funziona la d'artrisa, so già che è una bella d'artrisa, quindi la vivremo intensamente. Ti lascio andare a farti parlare dei tuoi ragazzi, ti ringrazio di essere stato con me. Divertiti, te che puoi girare. Eh, va bene, ci vediamo più tardi, allora. A dopo. Ciao, ciao. Allora, vi avevo promesso l'ospite. Adesso ve lo faccio entrare a sorpresa perché vuole entrare nell'inquadratura. L'ospite di oggi è Andrea Sgariboldi, detto Sgari. Ciao, riders. Grande. Hai, riders. Hai, riders. Che se me ha fregato. Se me lo ha fregato. Oh, è un piacere conoscerlo di persona, noi ci frequentiamo da qualche mese su YouTube, siamo amanti. No, lui è sposato in realtà, quindi non siamo amanti. Però sta facendo dei video fighissimi. Se non l'avete ancora fatto, andate immediatamente a iscrivervi al suo canale che è Sgari29. Sgari29, sì, Sgari, Sgari90. Sgari, Sgari. Sgari, Sgari. Ah, lo ha fatto, non iscrivetevi. No, invece fatelo perché fa dei video fighissimi. Io adesso sto iniziando a copiarli perché voglio farli belli come lui. Come sta andando oggi? Ah, sì, dal primo tour l'ho fatto, un po' frettino, tanto di giornali da mettere dentro e basta. Pranzi che video devi copiare più, quando vado in moto io copio i video. Io faccio che Sgari in moto, c'è questo problema a Sgari. Perché l'anno scorso Sgari era un mio avversario, mi dava, non lo so, 7-8 secondi al giro. All'ammodonna. Quanto hai fatto? 40 a Misano? No, no, 43. No, 44. 44? Perfetto. Mi dà 3-4 secondi al giro, già è meglio. E quest'anno fortunatamente si è tolto dai coglioni e va a fare il trofeo italiano amatore, quindi ho un avversario in meno da Dano Cap. Se va avanti così, rischio di arrivare a podio. Eh, dai, bene, no? Ma le tue aspettative invece per il 2022? Quest'anno? Sì. Ma come tempi mi sono dato 58 Mugello, 42 Misano, 37 qua. E questo che penso. Io punti i tempi, non il risultato in gara. Perché quello come va va... Perfetto, io sono contento che sia andato a fare un'altra categoria allora. Bene, bene, dai. Ci facciamo qualche giro insieme dopo? Dai, volentieri. Sì, tu sei nel Dino. Nel Dino. Ok. A più tardi. Mi tiri tu, dai. Sì, tu sei nel Dino. 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 Allora, secondo turno della giornata. In realtà il primo vero turno, perché durante il primo ho preso un po' di misura alle moto, direi abbastanza bene, è uscito subito un 43 senza forzare, mi rendo conto di essere un po' lungo di rapporti. Adesso scarichiamo i dati della telemetria e proviamo a cominciare a guardare qualche curvetta. Sono sicuramente molto lungo di rapporti e facciamo degli interventi sulla moto che vi racconto mentre i ragazzi li stanno facendo. e poi proviamo a rientrare in pista. 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 Allora! Altro turno fatto, questa volta sono entrato con il mio amico Davide che mi ha dato qualche consiglio come sempre l'inverno non ha portato grandi giovamenti ho dimenticato un pochettino di utilizzare tutta la pista e quindi di andare da cordolo a cordolo tendo a tenere nel taschino almeno 60 cm per parte però dopo essere stato un paio di giri dietro a Davide ovviamente abbiamo ritrovato la retta via però il tempo non è sceso, sono fermo su 43, ho la gomma tutto sommato alla frutta però sono contento perché il mio obiettivo di giornata che era quello di stare a 5 secondi dal mio amico Giacomo che l'ha seduto e non vuole comparire nel video, per il momento va bene c'è ancora un turno da fare, non credo che ci metteremo a fare particolari modifiche alla moto la gomma come vi ho detto è finita quindi cercherò di godermelo e concentrarmi un pochettino di più sulla tecnica, sugli spostamenti, sui movimenti del corpo che è una cosa che oggi ho curato poco allora giornata conclusa, io sono abbastanza soddisfatto, sono riuscito a girare a 5 secondi da Andrea quindi risultato ottenuto, già raggiunto, non lo devo abbassare per forza, oltretutto a gomma finita perché l'ultimo turno l'ho fatto a gomma finita però mi sono divertito questo è importante, tu com'è andata? abbastanza bene dai, ho girato sui miei tempi devo risolvere un po' il problema dell'ultimo turno qua di Cremona che è sempre il calore di Achille e di tanti e anche il mio e quindi... sei pronto per la gara? pronto, la moto è pronta, io devo essere pronto pronostico per la gara? non lo so tempo, 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 pronostico su tempo io ho detto nel mio video, mi sarebbe piaciuto fare un 37 nel weekend di gara anche alto vediamo come va 37,9 va bene sì, va bene, ora sono a 38,9 di best, secondino con l'extra motivation della gara magari arrivo se riesco a sistemare le ultime curve, è di apposta e poi invece dopo la gara cerchiamo di organizzarci per fare un fine settimana con la 400, con il motard, con il cross che è da novembre esatto, noi rimandiamo ok, allora per il video di oggi è tutto, io vi saluto fammi vedere se ho imparato sì iscrivetevi, like no, sei troppo conciso troppo? sì, più lungo ancora una volta se vi è piaciuto il video, iscrivetevi sì un bel like e un commento per forza, e anche la campanella per le notifiche perché se no l'algoritmo di YouTube si incazza si incazza, non va bene oh, grazie mille di essere stato con me grazie a te ci vediamo la settimana prossima e in bocca al lupo per la tua gara e anche te d'accordo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti